Grazie a tutti. Discretamente rovescio, è abbastanza bene a rete, il servizio va abbastanza assistito e quindi alla fine l'ho spuntato. Il secondo set me l'avevo vista un attimino brutta, 4-3 sotto, ma alla fine la testa c'è sempre via. E come no? Mentalità natale. Si vede, si vede. In ogni superficie trovo la medicina. E certo. Adesso tutto ti fa rimanere. Bisogna che un attimino riportiamo il caffè oggi. Certo. Ciao.